I ammè ma zaccreale Agli abitanti del nostro caro villaggio Nel nome di Allah il misericordioso E ai nostri fratelli cristiani Vi invitiamo a partecipare a una riunione A proposito delle fesserie che state facendo Ci vorrebbe un miracolo per calmare questi idioti Se solo tu potessi illuminarci Quella è Svetlana E quella è Tatiana Mi fai vedere? Sì, guarda, guarda Avevamo detto vestite sexy, non scostumate Sembrano appena appena uscite da una carestia Siamo nella merda Mio caro imam Ma perdona loro perché non sanno quello che fanno Con un pizzico di asci si stramazzi un cammello Dalla regista di Caramel Un film sui punti deboli degli uomini Che le donne conoscono bene E ora dove andiamo? Io so Ha visto il santo? Benedetto il suo nome Benedetto Si è scimunita? Yussef Daud Che ha Yussef Daud? Che ha? È un coglione Grazie Yussef Daud